Buonasera, buonasera a tutti gli amici qua che mi seguono su questa pagina di Facebook di Focus 3.0, il mistero della vita, in questo spazio che ci ospita, che ospita queste pillole di benessere quotidiano, come le abbiamo chiamate. Questa è la quinta occasione di incontro che abbiamo e mi fa molto piacere. Due giorni fa c'è stata la giornata della liberazione, è stata un po' strana come giornata della liberazione perché nessuno era libero di niente, eravamo tutti chiusi nelle proprie case, semmai siamo stati un pochino più in linea con il tema della resistenza che quella giornata celebra come un momento alto della nostra storia. Forse è proprio quello che abbiamo fatto noi in questi mesi. Abbiamo resistito, ma lo abbiamo fatto a torto collo, come si dice, cioè a malvolentieri, con il motto patriottico tanto risuonato, io resto a casa. Beh, abbiamo tirato, tirato, tirato un elastico psicoemotivo che è giunto quasi al suo punto di rottura e, come è la natura poi di tutti gli elastici, quello poi torna indietro e ti fionda dentro l'impazienza, l'insofferenza per questo prolungarsi della quarantena. Non vediamo l'ora che finisca, non vediamo l'ora che finisca. Tutti quanti ci domandiamo quando tutto questo finirà e aspettiamo con impazienza. Il momento in cui qualcuno griderà liberi tutti. Vi ricordate quando da bambini si giocava a nascondino, tutti pieni di quell'eccitazione per il timore di venire scoperti e poi c'era quel grido, da noi si diceva bomba libera a tutti. Non ho mai saputo cosa significasse, però quel grido ci sollevava, scioglieva quella tensione interiore e finalmente eravamo liberi di andare. Ecco, ancora oggi noi che siamo sì adulti, ma siamo anche adulti spaventati, tesi in questa situazione, noi da adulti ci stiamo nascondendo, cioè continuiamo a giocare a nascondire. Uso il termine giochiamo solo per proseguire nella metafora del gioco, perché non è per niente un gioco ovviamente, però giochiamo nascondino con una realtà che facciamo fatica a contenere dentro di noi e questo perché prima di riuscire a contenerla dentro di noi, abbiamo qualcosa che suona qui, prima di riuscire a contenerla dentro di noi dobbiamo riuscire ad aprirci a questa realtà così nuova e anche tanto, tanto difficile, proprio stravolgente. Questa realtà così dura, così difficile anche da dire, è che la vita non sarà mai più come era prima. Questo non sarà possibile, è oggettivo, è evidente se appena si getta l'occhio oltre l'orizzonte della nostra speranza, un pochino ingenua, di non volersi doversi confrontare con il cambiamento. Ci sono dei dati di fatto, c'è una realtà da accettare. Nel giro di un paio di mesi siamo arrivati a quasi 30.000 persone scomparse per condizioni in qualche modo legate alla presenza di questo virus e parlo solo di quelle accertate. Questo ci può fare immaginare che contando familiari e amici di tutti questi morti ci siano oggi almeno, ma dico poco, 6-700 mila persone piombate dentro il dolore e molti, molti tra di loro, sicuramente i parenti più stretti, per molti di loro la vita non potrà più essere quella di prima. Ora, è vero che la morte è un fatto assolutamente naturale, che fa parte di una normalità che tocca a tutti noi. Non è invece una condizione normale una quantità di perdite così ingenti, in così poco tempo e collegata a un vissuto di minaccia e di attacco collettivo. Siamo tutti preoccupati, impauriti di fronte a quello che sta succedendo e di fronte a questi che non sono solo numeri. Non è bello da dire, ma insomma voi pensate a tutte le volte che noi venivamo a conoscenza attraverso i notiziari che erano le stragi dei giovani sabato sera, allora che cosa succedeva lì? Succedeva che sentivamo una stretta al cuore per questi poveri genitori di questi ragazzi che perdevano la vita così e poi magari scuotevamo un po' il capo, qualche commento su questa imprudenza dei giovani e poi che si faceva? Si tornavano alle nostre vite, semplicemente, e queste cose venivano purtroppo, dico purtroppo perché è anche un po' triste dire questo, venivano archiviate come la normalità della vita. Ora non è così, ora queste morti ci toccano direttamente, riguardano tutti noi, fra quelli là potevamo esserci noi o un nostro caro e la minaccia non è scomparsa, è invisibile ma per questo ancora più insidiosa e quindi queste morti non sono per nessuno di noi le normali morti che concludono normalmente le vite di chiunque. Sono realmente scioccanti per tutti noi queste e poi sono accompagnate da disastri di altro ordine perché c'è disastri di tipo economico, socio-organizzativo, per molti, veramente molti milioni di persone la vita non sarà più quella di prima e questa è una realtà, è una realtà e tutti quanti chiediamo, chiediamo a chi sta lassù nella stanza dei bottoni e ci chiediamo quando tutto questo finirà. Quando chiediamo quando tutto questo finirà c'è un sottotitolo a questa domanda che è e tutto tornerà come prima. Questo è un po' voler eludere un po' le cose per come stanno andando e perché noi ci facciamo questa domanda e abbiamo questa insofferenza crescente? Perché ciò che noi stiamo vivendo fa parte della natura di qualsiasi trauma. Qual è la natura particolare del trauma? È quella in cui noi si vive una condizione estrema emotivamente destabilizzante e soverchiante senza sapere se avrà fine, se finirà, quando finirà, forse mai. Questo dubbio, questo vissuto è proprio tipico del trauma profondo e in molti casi quel trauma profondo, questo dubbio, questo sospetto, questa alterazione emotiva perdura, perdura a lungo anche quando si è finito lo stimolo traumatico, perdura attraverso modalità difensive, perdura attraverso stati di allerta proprio pervasiva che si mantiene costantemente, si perdura attraverso delle condizioni di ritiro o di sospetto, tutte cose che espropriano da chi le vive la buona vita, il buon vivere, la serenità, la capacità di fidarsi, di abbandonarsi, di credere che un destino migliore sia ancora possibile. Ecco, queste cose sono dietro l'angolo, noi ci troveremo a dover fronteggiare queste situazioni quando qualche cosa cambierà rispetto a quello che sta avvenendo adesso. Ma perché mi soffermo su questo argomento? Perché? Perché certo in misura diversa, ma tutti noi abbiamo subito e stiamo subendo gli effetti di un trauma collettivo. Tutti, tutti chi ha perduto, cioè proprio in misura diversa, ma anche grande misura diversa, chi ha perduto alcuni parenti e chi invece ha dovuto solo restare chiuso nella sua abitazione e magari abita in campagna con degli spazi davanti e magari ha la possibilità tutti i giorni di andare a fare una passeggiata tra le vigne nel silenzio della natura. Sono due condizioni molto diverse, ma lo stato di allerta permane per tutti, perché il pericolo insidioso c'è per tutti e la condizione generale di inquietudine, di economia devastata, di tutto quello che c'è, questo riguarda veramente tutti, tutti, tutti quanti. Ora, cosa c'è in questa esperienza che è particolare, su cui mi vorrei soffermare, è che questa esperienza ha fatto sicuramente emergere aspetti di noi stessi che forse neppure conoscevamo, che erano latenti, un po' sonnecchianti dentro di noi o che fino adesso nella nostra vita avevamo espresso in una misura minuscola. Aspetti di noi che però hanno potuto manifestarsi solo perché si sono create le condizioni favorevoli alla loro espressione, a un'espressione genuina, di verità. Queste sono le condizioni dell'enorme stress emotivo, di estrema emergenza. In queste particolarissime condizioni vengono fuori, emergono alcune verità che ci riguardano, alcune verità di noi stessi, alcune parti di noi stessi sopite, magari delle parti che abbiamo sempre negato o nascosto dentro di noi, non so, non volendole avere, oppure parti nelle quali non abbiamo mai creduto e che invece c'erano e che in questa situazione hanno mostrato di esserci. Aspetti talvolta sorprendenti, positivi, come la capacità di resistere, di stare alle regole. Qualcuno che non è mai stato alle regole, invece ci sta, sopporta la situazione. Aspetti positivi come la capacità di cooperare per migliorare le cose, di aiutare chi è in difficoltà, di fare magari anche delle rinunce gravose pur di evitare dei contagi, di esporsi a grandi rischi pur di essere utili in qualche modo. Ecco, molti di noi, me compreso, si sono ritrovati confusi, nervosi, impauriti, sospettosi, giudicanti, molto giudicanti, guarda questi escono, vanno così, ma abbiamo anche scoperto alcune qualità insospettabili dentro di noi. Abbiamo sentito di non essere solo impotenti, che è una delle cose che tutti viviamo, ma abbiamo sentito di avere ancora qualche forma, se non di controllo, ma certo di poter agire su quello che accadeva. Per esempio in termini di creatività, per aiutare gli altri. Mi viene in mente chi, proprio all'inizio di questa vicenda, su due piedi, ha creato quell'applicazione con la quale si poteva sapere in tempo reale quanta coda c'era da fare per entrare in questo o in quel supermercato. Pensate a questa creatività tipica dell'italiano. E poi anche in termini di aiuto concreto, di disponibilità verso persone sconosciute, molti, veramente molti gesti di generosità, completamente disinteressata sono stati spesi in queste ultime settimane e qualcuno ha compiuto azioni o ha avuto interessi e cortesie verso altre persone che non avevano mai fatto parte della sua vita prima. Queste sono le cose buone, ma certo non ci fa poi piacere scoprire in noi anche alcuni aspetti che nelle gerarchie di valutazione comunamente adottate secondo la cosiddetta morale, diciamo che non occupano dei posti di rilievo e anzi si collocano tra le categorie meno edificanti, sempre secondo la cosiddetta morale. E così diciamo che grazie a questo stato di emergenza abbiamo scoperto alcune cose di noi, alcune belle, alcune bene o belle, e qui il senso non sta nel dare punteggi, sta nella scoperta, cioè sta nella rivelazione di noi stessi a noi stessi e poi nella capacità o almeno nel tentativo di farci qualcosa. Io sono quello che sono, punto, basta, questo, senza alcun giudizio, solo pura conoscenza di sé che è un punto di partenza fantastico per procedere nella vita. Qui veramente non c'è da dare voti e direi che non c'è neanche da chiedere ora che ci faccio con quello che ho scoperto, che ho visto di me stesso. Io in una situazione come questa io posso accettare di essere quello che sono e posso accettare, che so, di non riuscire più a reggere il peso di questa situazione, questa situazione già pesante di suo, e non me la posso scrollare di dosso e mi tocca starci sotto, ma posso evitare di giudicarmi per la mia insofferenza, per la mia mancanza, che ne so, di combattività, per la mia incapacità di portare il peso di questa situazione, oppure per la rabbia, per la tristezza che provo, sono legittime, sono quello che sono, non posso essere altro e non devo sentirmi sbagliato perché provo i sentimenti che provo, li provo, sono lì, sono i miei e da un certo livello di stimolazione esterna in poi questi sentimenti diventano incontenibili e non è una colpa averli, non è una colpa averli, è solo quello che è, è solo in questo momento, in questa situazione che porta a galla queste cose che di solito cerchiamo di controllare. Ma come si fa a superare questa situazione collettiva, di sbandamento collettivo, di trauma collettivo che abbiamo vissuto e che stiamo continuando a vivere? Allora, come si fa? Si fa abbassando il livello di allerta interiore, questo livello di allarme che si attiva, questo livello di allarme generato dal trauma collettivo è proprio mantenuto in essere da alcune sostanze che normalmente vengono liberate nel nostro corpo allo scopo di farci reagire a reagire prontamente ai pericoli, alle minacce incombenti, è proprio un automatismo, è antichissimo ed è stato fondamentale per la sopravvivenza del singolo e quindi per la protezione della specie. Questo è un automatismo neurologico, sono proprio una serie di azioni che si mettono in moto dentro di noi in maniera del tutto automatica che generano, poi producono sostanze che si liberano nel corpo utili a quello scopo e questo meccanismo si è formato con l'evoluzione fino ad arrivare a sviluppare per noi, noi uomini di questo millennio, un raffinatissimo sistema di protezione e di reazione agli eventi avversi e questo efficientissimo automatismo di sopravvivenza si è ovviamente attivato di fronte alla minaccia incombente su ognuno di noi, solo che c'è un problema, il problema è che noi qui non siamo di fronte allo smilodonte, quella tigre con i denti a sciabola del pleistocene, quella te la vedevi lì davanti a te, bella, grossa, concreta, carne e ossa e tutto il tuo sistema di reazione ti attivava per permetterti di sopravvivere o combatto o scappo, subito, immediatamente. Ecco qui oggi per noi la minaccia c'è tutta ed è ancora più pericolosa dello smilodonte e al tempo stesso non c'è, non si vede, occupa la nostra testa, a momenti è enorme nella nostra testa, è invadente, agghiacciante, a momenti sembra quasi evaporare dai nostri pensieri, sembra diventare lontana, quasi non riguardarci, pertanto che siamo presi da altre minacce che si fanno avanti e qui ovviamente mi riferisco ai disastri economici che stanno travolgendo famiglie, stanno travolgendo le città, le regioni e via dicendo. Allora in realtà non potendo vedere il virus noi ci confrontiamo con gli effetti che questa minaccia produce, questi effetti sono più visibili per noi e incidono in maniera tangibile le nostre vite, gli effetti noi li vediamo, vediamo i morti, le famiglie distrutte, il crollo dell'economia, il crollo anche di uno stile di vita che è improntato a quell'economia, è direttamente correlato a quell'economia che sta crollando, vediamo le cose ai supermercati, le mascherine, i guanti, divieti, la distanza sociale, la perdita di contatto con la realtà come era prima. Allora se non di fronte all'invisibile virus, di fronte ai suoi effetti noi proviamo questo sentimento di impotenza che genera una grande rabbia e altera i nostri comportamenti. In quasi tutti noi in questi mesi almeno una volta è successo di perdere le staffe in maniera eccessiva, come non ci sarebbe accaduto nella realtà di prima. Oppure abbiamo sentito la nostra abituale sicurezza perdere terreno, ci siamo sentiti disarmati, irritati, con la voglia di mandare tutto e tutti a quel paese, di scrollarsi di dosso questo fardello di effetti, di obblighi, di limitazioni. Quante volte ho sentito dire in questi giorni ci stanno limitando, stanno limitando la mia libertà personale, ma stanno chi? Ma di che si parla? Non so, qui voglio dire due parole, ma proprio due, un discorso che forse ad alcuni non piacerà, però voglio dire questo, io ho riflettuto su questo, ma lì nelle stanze dei bottoni, come le chiamiamo, ci sono persone, ci sono persone, persone come me e come voi, proprio persone, normalissime persone, normalissime persone, gente che ha studiato, che sì, che no, che ha lavorato, che si è trovata lì in quella situazione. Forse, forse, non voglio essere, perché poi ne capisco fino a un certo punto, ma forse a suo tempo queste persone, alcune di queste persone hanno giocato con la politica per ottenere il potere, per avere una poltrona, può darsi, io non sono così dentro a queste cose, soprattutto non sono dentro a quelle stanze, ma non oggi, non oggi, oggi queste persone, persone, uomini, normalissimi uomini, si sono trovati davanti a qualcosa che non c'è mai stato prima e se magari, lo so, non voglio offendere nessuno, ma se magari non erano granché adeguati a condurre le sorti di un paese in pace e in salute, figuriamoci oggi davanti a tutto questo, io mi sono chiesto, ma io, io, io lavorerei la responsabilità di prendere decisioni su questo, di decidere davvero non sulla vita, perché loro decidano, e forse non così bene, non così attentamente o non così disinteressatamente, sulla vita delle persone quando fanno la loro politica, le loro cose, ma qui si trattava di decidere sulla sopravvivenza, non sulla vita, sulla sopravvivenza di milioni di persone, allora io mi sono domandato, lavorerei la responsabilità di decidere sulla sopravvivenza di milioni di persone e senza averne alcuna competenza, perché non c'era, non c'è nessuno al mondo che ha questa competenza, navigare in mezzo a scogli pericolosissimi, nella notte più nera, con onde gigantesche, con gli occhi bendati, dovendo tenere in mano il timone di una barca piena di vite umane e prendere decisioni dalla mattina per la sera, dalla mattina per la sera, non giornate, settimane, mesi per riflettere, decidere, valutare, no, dalla mattina per la sera, ogni giorno cose nuove, improvvise, impreviste, come se se ne avesse contezza, familiarità, esperienza, no, ma io devo dire non so quante notti di buon sonno hanno potuto avere queste persone, secondo me nessuna, avranno fatto errori, ma di sicuro hanno fatto errori, sicuramente, ma chiunque ci fosse stato lì sul momento avrebbe fatto errori, ma chi ne sapeva niente, non ci sono mica sfere di cristallo per decidere, quello che serve è solo il coraggio e forse l'incoscienza di prendere decisioni, senza sapere se erano quelle giuste, ma bisognava decidere, cioè bisognava prendere una strada e fare presto, così come ora, ora con questa cosiddetta fase 2 che si sta avvicinando, preparando, prenderanno una strada e forse non sarà la migliore, forse sarà addirittura la peggiore, ma una strada va presa e solo dopo si scoprirà se quella era quella giusta, con la decisione lì da prendere, però il coraggio di fare una scelta, questo io glielo devo riconoscere, io non lo avrei avuto e nemmeno voluto, non avrei avuto, ma neanche voluto, non lo so, credo anche che se a queste persone fosse stato detto, guarda, se tu ti siedi su quella poltrona, poi dovrai affrontare tutto questo, io non lo so, forse qualcuno avrebbe lasciato ad altri questo gigantesco peso di decidere. Ho un po' divagato, ma così magari faccio nascere qualche discussione e soprattutto vi voglio dire che anch'io sbaglio, che tutti sbagliamo, queste sono persone, sbagliano, come me, speriamo che sbaglino in buona fede, sicuramente in questa situazione non stanno facendo i conti per mettersi in tasca una, come dire, una bustarella su qualche appalto, no, non credo proprio, e devo dire che appunto che sbaglio, sbaglio anche molto nella mia vita e qualche volta però dai miei errori ho imparato qualcosa, magari tutti noi impareremo qualche cosa, da tutti gli errori che tutti noi stiamo facendo in questi giorni, ma l'insofferenza, tornando a quello che stavo dicendo prima, per la situazione che stiamo vivendo e per ciò che ancora dovremo vivere, scatena dentro di noi reazioni chimiche, no? Vi stavo dicendo prima, cioè legate ai processi di sopravvivenza che vi ho descritto. E questo, questo, attenzione, perché questo determina alterazioni dell'umore, rabbia improvvise, esplosioni emotive e ancora peggio, ancora peggio, determina anche una forma di inibizione ad esprimere la nostra sofferenza, chiudendola dentro di noi con conseguenze importanti per la nostra salute psichica ma anche fisica, molto gravi. vedere venirci incontro tutto questo senza poterlo fronteggiare ci fa vivere un senso di impotenza che è distruttivo, al quale la prima reazione che possiamo avere è rabbia, ma è una rabbia pericolosa questa rabbia, perché molte relazioni si stanno rovinando in questi mesi per l'impossibilità di sottrarsi a questo gioco, c'è il desiderio di urlare, di rifiutare, di ribellarsi, non c'è con chi prendersela e quindi c'è proprio lo stringere i pugni, c'è questo scatenamento anche ormonale di queste sostanze che determina questa attivazione così forte. Ma c'è un altro modo di stare davanti a ciò che ci viene incontro. Vi ricorderete che vi ho già parlato nelle scorse pillole della possibilità di risvegliare altre sostanze meno attivanti e non pericolose come quelle deputate alla lotta, al combattimento e sono sostanze legate più ad un atteggiamento di apertura, un atteggiamento più di disponibilità ad accogliere i cambiamenti, anche importanti. Sono sostanze, ne ho parlato dell'ossitocina, mi ricordo la volta scorsa o quella prima, che si libera non è il corpo, a seguito di cosa? Di atteggiamenti soprattutto interiori volti a creare uno spazio, un nuovo spazio dentro di noi. Ricordate all'inizio di questa pillola vi ho detto che per accogliere questa realtà, che è una realtà che c'è effettivamente, non possiamo far finta che non ci sia, per poterla accogliere, bisogna creare uno spazio, fare qualche cosa per aprirsi a questa cosa nuova che significa cambiamento, per quanto scomodo, ma che è la realtà verso cui andiamo. E quindi creare un nuovo spazio che ci permetta di stare davanti a ciò che avanza verso di noi, con tutto questo impeto, in maniera diversa, ma altrettanto efficace di quello generato invece dall'impotenza. ecco qui è il momento in cui, come sempre, vi invito a fare una piccola esperienza insieme e vi chiedo di chiudere semplicemente gli occhi e di guardare con gli occhi della vostra mente verso delle immagini che voglio mostrarvi. Se sentite di non voler chiudere gli occhi, perché va benissimo anche questo. Vi suggerisco allora di socchiuderli guardando sempre nella stessa direzione, ma invece di guardare un oggetto, di sfuocare la vista. Questo permette comunque di entrare un pochino dentro di sé. Fate solo un paio di respiri più profondi, proprio per entrare in contatto con voi stessi e per sentirvi nel vostro corpo attraverso il respiro, attraverso l'aria che entra e che esce dalle vostre narici, cercando di lasciare andare ogni tensione. prendetevi solo un istante e poi con gli occhi della vostra mente osservate delle onde inarrestabili che con la loro inesauribile potenza vanno incontro a degli scogli alti, grandi pareti di pietra che si levano di fronte al mare. E' come se fronteggiassero come guerrieri la violenza di quelle onde imponenti. E questo genera delle enormi colonne di acqua, di schiuma, con risucchi, con vortici rabbiosi che non si placano, ma anzi si rinnovano incessantemente, assalto dopo assalto. Questo scontro contro questi scogli arcigni che combattono contro queste onde così rabbiose. Poco più avanti la spiaggia disegna un arco dorato e sulla sabbia di quella spiaggia quello stesso mare, impetuoso contro gli scogli, risale sul bagnasciuga e allungandosi sulla sabbia che lo accoglie perde la sua violenza e placa la sua corsa. Da una parte la furia contro gli scogli e dall'altra lo stesso mare, le stesse onde che si allungano sulla spiaggia. Ora, guardando questo che vi ho descritto, la domanda che potete farvi mentre riaprite gli occhi e tornate nella vostra stanza, la domanda è quanto sono scoglio e quanto sono spiaggia. E fatelo, come dicevo all'inizio, senza darvi un voto, solo per comprendere cosa siano le onde del mare in questa piccola metafora, lo potete immaginare, ma dovete sapere che in una certa misura ci è dato di scegliere se essere scoglio o spiaggia. Alla prossima pillola, un saluto dal vostro Enrico Ruggini.